Remitina, quintolotto slovena, quintolotto spigata, rialto tic tac, tic tac, tic Se penso da dove è partito tutto questo, avanti, un po' indietro, passo dopo passo, coi pensieri del giorno dopo Dissebrenica, ricordavo semplicemente alcuni servizi televisivi Mi è ritornato alla memoria quando ho incontrato questa amica che mi ha detto Vieni in questi posti per aiutare le vedove a potare le piante Però bisognava ripartire proprio a fare gli agricoltori Io ho lavorato su questi aspetti tutta la vita Visto che adesso sono anche in pensione, potrei dare una mano a queste persone Io ho fatto un progetto, sono riuscito per fortuna a avere un finanziamento dalla provincia di Trento Che mi ha permesso l'acquisto di vacche rendene Impegnativo Questi animali saranno donati innanzitutto alle persone che hanno partecipato alle mie lezioni E che hanno manifestato la voglia di averli questi animali Allora io sono entrato in ogni casa, ho verificato che ci fosse il posto innanzitutto per tenerli Che avessero i foraggi per poterli mantenere E la forza Perché spesso e altre volte donazioni precedenti sono finite male Questa è una donazione un po' particolare Perché personalmente voglio vedere come vanno a finire queste vacche Allora, ma non è stata mai bello a tomare che dovrebbe essere quelli che dovremmo proprio... Che da doveva e capire i soldi... Abbiamo inglese l'applicazione, viviamo hunguppato solo per la propria propria, è solo quello che abbiamo avuto dal appunto. Sono ben tracatobre da questo personaggio, perché lui è stato primo che rimaste dai nostri compagni. Sempre sono stato a disposizione di lasciare il processo. Puti, pensi a quelle persone la giù, l'individuo, la famiglia, E allora dico andiamo avanti. Grazie a tutti.